ciao a tutti benvenuti nel mio canale sono di nuovo qui con un meraviglioso video di tuba buiukustun e engine akurek tuba buiukustun avrà una storia d'amore con il giornalista l'attrice tagba buiukustun che vive da tempo a parigi si sta preparando per il suo nuovo progetto la serie parlerà della storia d'amore di buiukustun con il giornalista che viene a intervistarla tagba buiukustun che vive da tempo a parigi con le sue figlie gemelle maya e toprak tornerà a istanbul per la sua nuova serie l'attrice ha continuato dicendo che si sta preparando per il suo nuovo progetto che sarà sul set il mese prossimo buiukustun interpreterà un attore famoso nella produzione che sarà trasmessa su un canale nazionale o su una piattaforma digitale la serie punti parlerà della storia d'amore di buiukustun con il giornalista che viene a intervistarlo questa nuova serie e love story di tuba buiukustun hanno avuto un grande impatto sui social media cosa racconterà la nuova serie di tagba buiukustun sul suo nuovo progetto che ha suscitato la gelosia di engine akurek engine akurek non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla nuova serie di tagba buiukustun engine akurek e tuba buiukustun vivranno una crisi per questo progetto grazie a tutti per aver guardato il mio video arrivederci ci vediamo in nuovi video con nuove novità